Ciao a tutti e a tutti ragazzi per questo nuovo video da Poppy e i Sofie Show Rieccoci ragazzi con un nuovissimo video in collaborazione con Veronica come noi conosciuta la bambina mai cresciuta Grazie Veronica e il secondo video in collaborazione con lei il primo se non l'avete visto l'ho fatto Poppy ti lascio te spiegare di che cosa vi ho parlato primo video in collaborazione con Veronica abbiamo fatto il video sui libri che abbiamo scritto nei libri quindi il mio video è ho scritto 4 libri in collaborazione con Veronica questo video è della Sofie con Veronica esatto parleremo di, cioè faremo un elenco di 10 animali che ci piacciono partiamo subito dopo la sigla Rieccoci partiamo subito con la classifica al decimo posto ho messo il coniglio e ho detto perché è molto, cioè soffice e non l'ho messo al decimo perché non è molto di compagnia sta molto sulle sue e quindi man mano che si va avanti ovvero salendo fino al primo ci sono sempre delle motivazioni molto precise brava Sofie poi al nono posto ho messo il pappagallo mi piace molto perché mi piacciono molti i colori delle sue piume e poi mi piace molto anche quando svelazza per casa è carino, mi piace però anche sempre su questo al nono posto perché non è molto di compagnia poi mi piace anche tanto quando parla sempre, scusami se ti interrompo, sempre dai punti di vista esatto quindi precisa che questo è un tuo punto di vista perché molti possono dire no, il pappagallo è di compagnia secondo il mio punto di vista poi ognuno logicamente ha la sua opinione beh anche perché parla comunque no? esatto, poi venisco a far far dire e anche qua c'è un nostro studio aneddoto perché papi aveva a casa non dei pappagalli ma dei canarini che non erano suoi erano il suo papà c'erano all'inizio i canarini poi i cocorita i cocorita i cocorita che mio nonno amava amava, sì quindi non riusciva a stare senza poi si era pieno poi all'ottavo posto c'è il canguro la particolarità del canguro ho scelto quando sono piccoli cioè quando fanno dei cuccioli sono mamiche come noi tengono il cucciolo dentro la sacca della mamma quindi è troppo carina questa cosa però poi saltano a destra si saltano volto poi fanno dei cattivi anche così però se hai visto sono anche degli esemplari molto belli muscolosi sì sì hanno quella forma proprio muscolosa e poi il papà tirano quei calci anche per si ma il papà è gelosissimo ho visto dei video che la mamma si vabbè è gelosa ma mai quanto il papà cioè vabbè mi piacciono tantissimo poi sono cioè i colori che hanno sono bellissimi mi piacciono settimo posto la scimmia poi mi è da ridere ma per tanti motivi allora ho scelto la scimmia perché è buffa poi ho visto anche dei tiktok che tipo posti qua in Italia all'estero dove appunto si trovano le scimmie molto più facilmente che ti passano pure accanto molte persone si portano in giro le piccole bananine e le danno le scimmiette beh ma poi sono anche molto intelligente si che belli i video dove tipo dei delle persone li curano gli mettono piccani no vabbè sanno fare tante cose le scimmie comunque sono stra intelligenti praticamente noi in un'altra vita eravamo delle scimmie così dovrebbe essere la storia poi c'è chi ne sa più di noi comunque vabbè quello è ovvio al sesto posto il panda il panda perché quando mangia le canne di bambù fa ridere cioè non so se voi avete mai visto dei video di panda che mangiano le canne di bambù come che fanno lo so cioè tipo si mettono e poi si mettono in modi strani cioè si accucciano tutti e tipo si mettono la canne di bambù così e cioè la mangiano velocissimi io non so come fanno cioè è vero la natura ognuno ha la sua natura qui sono animali hanno la loro natura e poi sembrano dolci ma in realtà sono cattivissimi ricordiamo che è sempre per autodifesa esatto ogni animale ha la sua autodifesa una cosa che odiamo noi e spero anche voi la caccia brava Sofì la caccia ragazzi no la caccia no la caccia vi prego quindi ci portiamo proprio a te vabbè quinto posto quindi stiamo salendo già dal quinto al primo è il koala bello per la sua storia non so se avete mai come i koala anche i panda che c'è stato in Africa a me pare la strage dei koala perché era andato tutto a fuoco si mamma mia tutto a fuoco e quindi ne sono morti un sacco infatti adesso stanno andando in via d'estinzione da quanto sono di retta cioè da quanto sono pochi koala quindi perché alla lì praticamente ti sei innamorata del koala certo che hai cominciato ad interessarti esatto anche da Netflix ho guardato un film dei koala di questa famiglia che trovava dei koala in difficoltà e si arrampicava sugli alberi per prendere i koala in difficoltà bellissimo poi sembrano grandi ma è stato su amico eh beh sono benvenuti muscoli sono troppo carini belli poi hanno una loro personalità è il colore grigio perché cioè loro sono tutti grigi io non ho mai visto se non i gatti degli animali grigi se non loro quindi li rende particolari per questo cioè è raro vederli o più scuri o più chiari del grigio ecco è un grigio è un grigio come la maglietta di papi ah ecco beh beh è bella sei koala oh sì volevo dirle io lo assumo io un koala quarto posto il cavallo bellissimo già il cavallo sì bello gli animali preferiti è proprio il cavallo è bello perché ha una muscolatura molto ma molto forte cioè sono bellissime è un cavallo è un animale molto possente sì esatto poi è altissimo bellissimo io ho cavalcato sia il cavallo che il pony sono sincera è più bello il cavallo del pony il pony è pazzo è piccolo è piccolo i giocherelloni quindi cioè io sono salita sul pony per fortuna che c'era una ragazza che l'ha tirata subito perché sta cioè sono pazzi il pony però mi ricordo è stata una bella una bella giornata sì è stata bella sì e quando siamo andati in Duomo se avete visto il video si erano i cavalli bianchi bellissimi io amo il cavallo bianco cioè secondo me il cavallo bianco è più signorile il cavallo bianco è vero poi ognuno ha certo la sua bellezza infatti con mia nonna ogni volta che vediamo un cavallo bianco scacchiamo sempre delle foto perché? perché lo amiamo cioè è bellissimo il cavallo bianco ma dalle sfumature di grigio poi terzo posto il gatto perché il gatto? ha una bellissima estetica mi piace un sacco purtroppo sta molto sulle sue poi io ho avuto due gatti sì un arancione il mio primo gatto e il secondo tutto maculato quindi tipo tre o quattro colori aveva era bello se non ho sincera il secondo mi è piaciuto di più del primo la bambina mai cresciuta parla molto spesso dei gatti lei ama i gatti ama i gatti è una gattara giustamente è una gattara le abbiamo anche noi sì l'unica cosa è che noi avendo il cane abbiamo questa piccola preferenza tra l'uno e l'altro il gatto è un po' più sulle sue e in giro per casa magari molte volte non lo vedi non lo trovi non lo segui abbiamo avuto uno zoo in casa sì ho contentato a tutti a me soprattutto io amo gli animali quindi a partire dalle cafferughe dai pesci avevamo un acquario tipo di 45 pesci era enorme l'acquario era di 80 litri quindi era pieno di pesciolini carini quindi sì e purtroppo mi si sfoga l'allergia quando sto vicino a un gatto anche sì è vero mi si gonfiano gli occhi in una maniera cioè è meglio che non ne parliamo ma però io amo il gatto cioè è uno o tre gli animali poi quando sono piccoli sì è uno tra i miei tre animali preferiti perché i tre primi animali che ho messo sono pure quindi terzo posto il gatto secondo posto lo scogliattolo wow bello particolare perché praticamente nessuno se lo calcola e sono arrivata io a calcolarlo infatti non so che a lasciarmi dello scogliattolo io ce l'ho brava soffi come ce l'ho dello scogliattolo ebbè l'animale nonunque è molto bello particolare piccolo piccolino quindi molto e ho scritto perché è un animale preferito poi è molto birbantello cioè quando cioè si avvicina ti prende le ghiande si rende in bocca e scappa non si fa neanche accarezzare è cattivo primo posto siamo al primo primo posto penso sia banale quale animale sia ovvero il cane brava soffi ora voi mi scrivete 3 gt per come non amare il cane non ce la fate perché è impossibile è impossibile il cane è coccoloso carino ti dà molte ma molte più attenzioni di altri animali io non riesco a stare senza cioè ho fatto tutta la mia vita ad avere cani e tra l'altro è qua sotto Sally cioè ci gironcola qua che gioca eccola voi non la vedete aspetta eccola Sally cioè vedete com'è coccolosa sì ah mi abbassa il cane quindi sì io amo il cane cioè è bellissimo poi ci sono io sono convinta che noi e dico noi ci dovremmo chiamare animali e loro uomini perché loro sono molto più intelligenti di noi e non dico solo sul cane dico in qualunque animale non so se papis questo è d'accordo ma penso proprio di sì d'accordissimo perché cioè molte volte sono molto più cibili di noi che loro quindi sì io amo gli animali ok cioè fare di tutto pur di avere un animale e poi ve lo può dire perché io quando già avevo il gatto il secondo gatto che si chiamava Whisky subito volevo prendere un cane e mi sono messa d'accordo con lui a prendere un cane l'ho convinto ce l'ho fatta a prendere il cane di nascosto da mia mamma poi prima se l'hai vista in casa ma perché spieghiamo perché non perché perché la mamma ama tantissimo i cani che quando era ragazza a casa sua lei aveva lo Yorkshire sì e e quindi cosa sapendo perché poi troppo nel passare degli anni si è ammalata era anzianotta ha dovuto assistere la famosa puntura quindi dice quando si parlava a casa nostra dei cani lei dice no no perché io poi mi conosco perché io stravedo per i cani so come sono molto apprensiva e quella e quell'altro quindi avevamo questa parentesi diciamo quando la Sophie me l'ha detto a me ero all'inizio un po' titubante ma non perché non volessi il cane per i vari impegni era per i vari impegni poi è una cosa e l'altra ha detto senti è un'esperienza anche per me perché io quando ero ragazzino da mia mamma lo desideravo e lei diceva guarda io li amo però quando avrai a casa tua fare quello che vuoi qua no perché io poi la disabilità di mia mamma e quello e quell'altro ho detto quindi va bene e così ho consentito la richiesta della Sophie e ed ecco qua abbiamo preso due fratelli noi avevamo il maschio e mia zia la femmina e la femmina si chiama Cleopatra soprannominata Cleo ed ecco il cane bianco che avete visto nei video esatto mi pare che avete già visto ed è molto coccolona ed è un pazzone gigante è una nuvola è una nuvola bianca quindi Sophie abbiamo capito che al primo posto c'è il cane c'è il cane brava Sophie voglio ringraziare tantissimo Veronica perché sapendo la mia passione degli animali mi ha voluto far fare questo video in collaborazione con lei grazie quindi la voglio ringraziare tantissimo e quindi andate a vedere adesso il video di Veronica che parla dei suoi dieci animali preferiti sono curiosissima di vedere quale sono secondo me al primo posto ci sarai dato ma secondo me secondo noi secondo me perché anche secondo me però qua è il bello dire ma andiamo a vedere adesso il video di Veronica non vedo l'ora è arrivato il momento di chiudere il video quindi vi salutiamo e vi ringraziamo di essere che siamo arrivati a questo punto del video e ciao ragazzi ciao